Dopo la corsa elettorale oggi inizia ufficialmente, possiamo dire, questa maratona, questa macchina politica qui a Campobello di Mazzara, inizia quindi un ritorno dalla città a ritornare appunto a vivere. Oggi però abbiamo visto un consiglio comunale un pochettino affaticato quasi, come inizia direi che non c'è male. Sì, è detto bene perché si tratta intanto della prima seduta, di iniziamento e di giuramento da parte del consigliere comunale e nonché dello stesso sindaco. Tuttavia si sono già presentati i primi problemi per quanto riguarda le scelte che devono fare il consigliere comunale in ordine a una questione di carattere personale di un consigliere. Sulla questione poteva benissimo essere fatta subito chiarezza, stante le dichiarazioni fatte dal segretario comunale, però abbiamo registrato che alcuni gruppi dell'opposizione sul consigliere stesso che riguarda un altro consigliere dell'opposizione hanno posto qualche problema di compatibilità o meno sulla sua accettazione di candidatura. Lì è solto il primo problema, però alla fine è stata convalidata l'elezione del consigliere Pastorante Gasperi, anche perché il segretario ha tranquillizzato tutti gli altri dicendo che la rimozione dell'elite pendente con il comune di Campobello ha fatto cadere di fatto l'incompatibilità dello stesso. Si è voluto creare qualche discussione in più, perché giustamente parlando anche di consigliere e di fatto personale si è un po' accesa la discussione, ma poi alla fine tutto è rimasto dentro il canone della legittimità della decenza, per cui va bene il confronto, va bene il dialogo, ma si deve pensare per andare avanti, adesso si deve pensare a costruire per un futuro della nostra città. Come prospetta quindi i prossimi cinque anni? Innanzitutto dobbiamo affrontare un altro problema che avremo da qui a Proco, che è quello della nomina del Presidente del Consiglio. Lì debbo registrare che c'è qualche piccola frizione, che io mi auguro che possa essere ricondotta all'ordine durante la votazione stessa. Tuttavia, anche se questo non dovesse avvenire, io sono determinato nel portare avanti la mia azione amministrativa, perché sono convinto di poter avere anche la condivisione dei gruppi della minoranza. i quali mi hanno manifestato tutta la buona intenzione a collaborare con l'amministrazione. Io da parte mia non farò altro che renderli partecipi della buona conduzione amministrativa, perché ho parlato nel programma elettorale di condivisione e di trasparenza e questo è quello che io farò nei confronti del Consigliere dell'amministrazione, ma soprattutto per il rispetto della città stessa.